La cooperativa Valden nasce dal desiderio di proporre viaggi a piedi in Italia e nel Mediterraneo con la formula del turismo responsabile e con lo stile del camminare lento, del viaggiare per conoscere i territori entrandoci dentro lentamente a piedi. Festeggiamo qui a Tracolle Valdese, Monte Riggioni la nostra festa che abbiamo chiamato il social trekking perché crediamo che il camminare abbia una valenza anche sociale, non solo di conoscere il paesaggio, di stare bene ma anche di incontrare le persone, le popolazioni che vivono nei territori e di facilitare la convivialità, la socializzazione di quelli che camminano. Questa è stata un'idea molto carina di organizzare dei piccoli trekking di due giorni. Valden in questo modo incontra i produttori, li vede sul posto, cioè in azienda, per notte presso queste strutture e quindi ha la possibilità di vedere anche quello che c'è dietro alla facciata del mercato. La cooperativa Valden è un socio di ITR e io come presidente sto partecipando con grande piacere a questa festa che mi dà la possibilità di vedere nel concreto come Valden organizzi i propri viaggi secondo i principi del turismo responsabile e quindi con un forte rapporto con i territori che vengono visitati con la gente che ci vive, con tutta la popolazione che è coinvolta in questa ospitalità il cammino consente una visita lenta e approfondita del territorio consente momenti di incontro, momenti di conoscenza, di approfondimento. I nostri viaggi a piedi si caratterizzano per essere viaggi condotti da guide professioniste in piccoli gruppi, viaggi che vanno dai 3-4 giorni a una settimana, 10 giorni. Nei viaggi le dimensioni che prediligiamo sono quelle appunto di scegliere strutture piccole gestite dalle persone del luogo, possibilmente dove si può mangiare cibi biologici, dove c'è attenzione alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente e stiamo attenti che la costruzione del viaggio permetta un sostegno anche alle economie locali, quindi scegliamo sempre realtà sul territorio. Grazie. 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 Grazie.